Ed ecco che siamo qua davanti al Big Ben e finalmente c'è Billy Idol messo dall'assessore Berrino e tanta gente! Gatti, finalmente mi ha messo Billy Idol! Gatti, finalmente... Collegio! E ora mi voglio mettere un po' di te che sono andata... Per il mio più c'è un anno lo passato, chiamati il veterinario, portanto in fine, i cappei, ad esempio per me per me per me, non per me per me per me, e allora mi chiamo una gina pure insieme per te che sono andata! E' un'altra dei... Grazie a tutti.